Abbiamo parlato dell'acquisto della nostra iniziativa di 8 billette a 300 metri dal parco. Come avviene tecnicamente l'acquisto? Essendo un C2, un capannone esistente, viene acquistato il capannone dal cliente, viene fatto simultaneamente il contratto d'appalto con il costruttore, quindi ci sono due step, c'è l'acquisto del C2 più l'appalto di completa ristrutturazione e in questo momento, a questo punto, si possono attivare gli sgravi fiscali che ho spiegato nelle precedenti puntate, su una billa media di 550.000 euro siamo intorno ai 150.000 euro di sgravi decennali divisi nei 10 anni. Il cliente che vuole contrarre un mutuo con la banca viene seguito direttamente dal costruttore, viene portato, dato il mutuo e se ha una media di 15.000 euro di mutuo annui vengono sgravati esattamente 15.000 euro, quindi il mutuo viene completamente pagato dalla riferazione.